cardinale colonna. Io sono Massimiliano Viola, il responsabile scientifico della Fondazione Carla Mercurio. Rubberò soltanto pochi minuti per spiegarvi in breve l'identità e la missione soprattutto della Fondazione Carla Mercurio. Questa fondazione che è nata di recente è quello di creare non soltanto dei professionisti, ma dei professionisti di cultura. Cerco un attimo di spiegarmi con questa precisazione che ho appena fatto, perché le competenze tecniche sono senz'altro fondamentali per la vita lavorativa e questo voi lo dimostrate probabilmente meglio di chiunque altro, perché se siete qui è anche grazie all'esperienza che avete fatto di studio in Italia o all'estero e al vostro percorso, che garantisce appunto questo livello di eccellenza. Ma mi permetto di aggiungere che questo a nostro avviso non è sufficiente, soprattutto oggi. Oggi accanto al livello di competenze tecniche alte è necessario formare la persona, tornare a formare anzi la persona, perché ritengo che in passato questo fosse ben presente e che oggi si sia un po' purtroppo perso. E allora la Fondazione vuole inserirsi esattamente in questa direzione, affiancare i percorsi, diciamo, istituzionali dei giovani, sia del liceo ma soprattutto dell'università, affiancarli, dicevo, aggiungendo la cultura, la cultura soprattutto di stampo umanistico, ma umanistico inteso in senso ampio, cioè che riguarda appunto la persona, perché dobbiamo essere sempre consapevoli che agiamo e viviamo in società e quindi abbiamo la necessità non soltanto di pensare a noi stessi ma di pensare anche al bene del prossimo. È fondamentale coglierlo e per fare questo serve essere preparati, serve essere pronti, bisogna studiare anche ciò che non riguarda semplicemente l'ambito tecnico delle proprie competenze. E la Fondazione Carla Mercurio intende agevolare esattamente questa crescita formativa dei ragazzi, per formare, come dicevo poco fa, il professionista di cultura. Nel farlo la Fondazione agisce in tre ambiti fondamentali che richiamano, non so se qualcuno di voi ha dimestichezza con la filosofia, è la mia grande passione, sono i trascendentali dell'essere, i trascendentali della classicità, il vero, il bene e il bello, che non sono semplicemente dei valori astratti ai quali possiamo dare dei contenuti che in un certo senso dipendono da noi, ma hanno una loro consistenza oggettiva e quindi la Fondazione si vuole esattamente inserire in questo solco, in questa scia, riportando il vero, il bene e il bello tra i giovani e attraverso i giovani nella società. Questa è la missione che noi intendiamo portare avanti e potremmo iniziare proprio con voi che siete di questo ambito oggi così importante che è l'ambito cosiddetto STEM, consapevoli dal lato della Fondazione di una realtà, che oggi il vostro ambito è quello che probabilmente ha maggiore impatto nella vita delle persone e quindi avete una responsabilità particolare in questo senso e anche un'occasione, mi viene da dire, per poter appunto portare tramite il vostro lavoro, tramite le vostre vite alla società civile il vero, il bene e il bello. E in questo senso vorrei poter dire che la Fondazione vi vuole affiancare, non soltanto con l'attività appunto con i programmi delle borse di studio come la Silicon Valley Fellowship, ma anche con attività di formazione vera e propria, che sono rivolte a voi, alla vostra crescita personale, con l'obiettivo appunto di poter generare professionisti di cultura e quindi uomini e donne consapevoli della loro importanza, del loro ruolo nella società. Io adesso invito qui vicino a me la Vice Presidente della Fondazione Carla Mercurio per lasciare appunto la parola e vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti. Allora, noi possiamo aggiungere che appunto la Fondazione è un luogo dove si diciamo di legame tra i futuri professionisti e quelli attuali, quindi tra giovani e adulti. proprio per poter formare i giovani per il bene della società e non soltanto per il semplice benessere. E quindi qui si può parlare anche di responsabilità sociale, che è proprio connaturale al nostro essere fondazione, quindi un ente di terzo settore, che non ha appunto scopo di lucro. E proprio per questa fiducia di questo legame, la Fondazione qualche mese fa ha fatto un'importante donazione per dare la possibilità a tre studenti STEM di appunto andare e recarsi proprio in Silicon Valley e fare l'opportunità e vivere l'opportunità del Silicon Valley Study Tour. E però il fatto che la Fondazione proprio nasce da questo senso di condivisione e di interscambio è essenziale che anche la società, anche le società e ognuno di noi abbia, che tutti noi possiamo fare qualcosa e quindi che possa essere, che possa dare un supporto appunto in ogni forma. Quindi sia dall'aspetto più culturale di iniziative che è anche appunto quello economico. E proprio perché soltanto insieme si può raggiungere un obiettivo così importante e realizzare questa missione che la Fondazione sta iniziando a portare avanti. Quindi grazie. Ora passo la parola a Eric Turricelli. Grazie mille Alessandra e grazie mille a tutti per essere qui. Sia quelli che sono venuti in presenza da tantissimi posti diversi in Italia, dall'America, dall'Europa e anche a tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming. Volevo cominciare appunto dalla Silicon Valley Fellowship che come ci hanno detto anche prima Alessandra e Massimiliano è questa esperienza di una settimana in Silicon Valley in cui si visitano le big tech companies lì, come possono essere Tesla, Google, Netflix, Microsoft e così via. Ci sono le varie visite alle università di Stanford e Berkeley e ci sono tanti talk da investitori, imprenditori, ricercatori della Silicon Valley e tantissime occasioni di networking sia con mentor sia con persone più giovani. I filoni di questa esperienza sono tre. Uno è quello chiaramente imprenditoriale di startup, quindi tantissime di queste persone sono interessate a fare startup, vanno lì in quella settimana per poter aprire sul mercato americano, poter raccogliere dei soldi e poter imparare dalla mentalità della Silicon Valley. L'altro tema è quello chiaramente delle big tech, quindi ci sono tantissime persone che poi dopo sono interessate un po' a poter ottenere un referral, comunque un lavoro in queste grandi aziende che conosciamo tutti noi ed infine c'è anche la parte di ricerca e di università, quindi attraverso chiaramente le collaborazioni con Stanford Italian Society, Berkeley Italian Society e associazioni come ISNAC, SWIEC, e così via, vengono organizzate anche opportunità di networking anche poi per persone che sono interessate a tornare lì, magari a fare una tesi, a fare un periodo di visiting, fare un PhD o un master. una fellowship a cui ci siamo ispirati per la Silicon Valley Fellowship è quella di Peter Thiel, il co-founder appunto di Paypal, poi dopo VC Investor con appunto il suo fondo di Founders Fund. In pratica lui ha fatto partire questo progetto più o meno 12-13 anni fa in cui finanziava giovani, appunto under 22, in cui gli dava 100.000 dollari per appunto abbandonare l'università e perseguire il loro percorso, che poteva essere quello di creare delle community di mentorship, non profit o anche vere e proprie aziende. Infatti da queste ci sono passati i founder di Figma, Luminar, Ethereum, Scale AI, Do Not Pay, Scale AI e così via. Sono state fondate più di 30 aziende appunto miliardarie, quindi con lo stato di unicorno e di questi 250 fellow addirittura più o meno 8 sono diventati miliardari. Noi abbiamo avuto la fortuna di ospitare uno dei co-founder della Thiel Fellowship, appunto Michael Gibson, in ufficio da noi a Milano e il giorno dopo anche all'ETH appunto a Zurigo e poi durante la settimana della Silicon Valley Fellowship e appunto Daniel, che è l'altra sua diciamo partner del fondo di Venture Capital che hanno fatto a partire da, dopo l'esperienza della Thiel Fellowship, ci ha appunto ospitato lì a San Francisco e farà la stessa cosa anche alla Salesforce Tower a febbraio per il prossimo badge. E l'altro programma molto interessante è quello di Zee Fellows, che è stato fondato appunto da Corey Levy, uno dei principali angel investor della Silicon Valley, anche qui si tratta di una settimana in Silicon Valley, dove si ricevono appunto 10.000 dollari per proseguire il proprio progetto imprenditoriale e si ottiene della mentorship da top investor e top founder della Silicon Valley, come possono essere appunto i founder di Netflix, Figma, Eventbrite e aziende di questo tipo. Noi abbiamo appunto avuto la fortuna di entrare nel batch di ottobre, infatti qua trovate anche la foto mio fratello appunto Patrick e da quel che sappiamo purtroppo siamo gli unici italiani all'omento di aver fatto questa cosa e uno dei temi ricorrenti che toccheremo più e più volte durante questa serata è proprio quella di riuscire a creare un forte ecosistema italiano nell'ambito tech e di startup attraverso Fondazione Carla Mercurio, attraverso queste Silicon Valley Fellowship e Gomory stesso. Ma com'è che è cominciato tutto? È cominciato tutto grazie a Paolo e Simona nel 2005 che hanno cominciato a portare i giovani in Silicon Valley e anche oggi sono, adesso non li vedo tra il pubblico, ma appunto sono qui tra noi e in particolare questo è stato anche il mio primo approdo in Silicon Valley nel 2019 grazie appunto al tour che è stato organizzato qui e l'ultimo in realtà appunto prima del Covid e da questo tour poi sono nate tantissime amicizie, collaborazioni ed altri progetti, infatti anche oggi ci sono diversi dei partecipanti che sono stati lì in Silicon Valley nel 2019. Poi chiaramente c'è stato il Covid, quindi sono stato un attimo messo in pausa tutte queste esperienze in Silicon Valley e mi sono ripartito appunto nel 2022 l'anno scorso e quando appunto con Paolo eravamo rimasti in contatto e facendo appunto diversi webinar, presentazioni e così via e appunto io ai tempi mi trovavo in una fase abbastanza di transizione, nel senso che era Barcellona che mi stavo allenando per l'Ironman, avevo appena diciamo fatto l'Ironman in Francia a giugno e Paolo appunto, cioè mi ricordo proprio che mi aveva chiamato e Erika appunto saresti interessato ad andare in Silicon Valley appunto a guidare questi giovani no? E io ho detto ok perfetto, cioè ho finito un po' la frenesi sportiva, volevo assolutamente fare start up, non avevo però un'idea super concreta, non avevo un team, però ero rimasto in contatto con tutti i vari mentor che avevo conosciuto un po' nel 2019 e con anche tutte le altre associazioni che diciamo sono qui con noi oggi. Quindi appunto all'inizio ovviamente ho fatto un po' da guida ai vari ragazzi, quindi siamo stati qua appunto da Microsoft, siamo stati con Federico Faggin appunto anche uno dei personaggi storici della Silicon Valley e qua Stanford è appunto inventore anche del microchip e poi da appunto Loris De Giovanni, il founder e CTO di SISDIG, una appunto purtroppo delle poche storie diciamo di successo di start up italiane in Silicon Valley e quindi appunto ci ho ospitato lì da lui in ufficio a SISDIG. Poi dopo, sempre grazie appunto anche alle persone che avevo conosciuto con il Silicon Valley Study Tour, in qualche modo diciamo mi sono dovuto ingegnare per rimanere lì e sono stato super fortunato che ho conosciuto Tommaso che è appunto il mio attuale co-founder e anche lui appunto era lì in Silicon Valley e mi ha invitato ad andare al Forti For Montgomery che è questo co-working space lì a San Francisco dove ci sono tantissimi early stage founder, start up di Y Combinator, persone estremamente in gamba ma che si vogliono tutti dare una mano a vicenda. Quindi poi dopo da lì è nato semplicemente anche il nome di Gomri come abbregazione di Montgomery Street e poi nel frattempo c'era Patrick che dall'Italia diciamo facevamo le call a mezzanotte e si collegava da remoto e tutto il resto. Ovviamente nel senso come avranno spalimentato anche tutti quelli che sono andati in Silicon Valley ci sono tantissimi eventi di networking, tantissimi aperitivi e così via, in particolare anche l'Italian Innovation Hub e quindi diciamo spesso andavamo lì per incontrare altri founder, altre persone un po' in questo giro e ovviamente anche per mangiare che è uno dei posti migliori in Silicon Valley. Anche per dormire chiaramente nel senso all'inizio ovviamente avevo l'accommodation dal Silicon Valley Style Tour durante il periodo di tour ad agosto e poi dopo mi sono sempre un po' dovuto arrangiare quindi sono passato un po' da divano a divano e sono tutte persone che mi hanno aiutato che avevo conosciuto proprio grazie anche al Silicon Valley Style Tour nel corso di questi anni o persone lì in Silicon Valley. Poi dopo una certa grazie appunto a un altro founder che avevo conosciuto lì al 44 Montgomery e mi sono trovato una stanzina di 6 metri quadrati quindi all'inizio diciamo siamo partiti così e torneremo diciamo a questo tema dell'accommodation anche più avanti perché è una delle barriere all'ingresso diciamo più grosse che ci sono anche per poter appunto fare start up lì in Silicon Valley. Poi dopo siamo tornati a Milano dove appunto abbiamo raggiunto Patrick che ai tempi stava facendo l'intelligenza artificiale alla Bocconi, la software engineering da San Paolo e tra una roba e l'altra diciamo che passava sempre più tempo in ufficio con noi di qua e di là e quindi alla fine anche lui è andato diciamo all in e ha fatto drop out da entrambe le cose. Abbiamo notato tantissimo supporto sia da persone della Silicon Valley sia da italiani un po' su quello appunto che stavamo facendo e quindi questo è stato un po' il periodo che abbiamo fatto a Milano. Mentre eravamo appunto nel periodo a Milano e poi dopo c'è stato un altro dei temi ricorrenti sempre quello di poter fare la start up in Silicon Valley oltre a quello dell'alloggio è quello dei visti e lì appunto è un grosso milestone e anche una grossa opportunità per altri imprenditori italiani che sono interessati ad andare in Silicon Valley è quello del visto e2 che diciamo è disponibile per nazioni amiche degli Stati Uniti America quindi appunto tra cui per esempio l'Italia. Tommy ha fatto il colloquio, l'ambasciata americana qui appunto a Roma a maggio e quindi almeno con quella questione lì è stata risolta e poi abbiamo sempre cercato di entrare in contatto con altre persone che stavano intraprendendo questo percorso e che diciamo ci potesse aiutare in questa strada. Uno di questi casi è stato appunto l'assemblea degli azionisti di Berkshire Hathaway che è appunto l'azienda di Warren Buffett e Charlie Munger in cui appunto Tommy è andato lì all'evento negli Stati Uniti in cui ha potuto entrare in contatto anche con altri imprenditori appunto diciamo di file internazionale, Nicolas Bustamante ha fatto la più grossa exit in Europa appunto più di 100 milioni un paio di anni fa, Xavier e Sheva invece stanno creando una sorta di mini Berkshire Hathaway quindi acquisendo altri possibili business. Mentre eravamo poi in Italia abbiamo fatto diciamo diversi eventi con aziende, associazioni e diciamo in giro per l'Europa e uno appunto era con Gumroad lì a Milano appunto in alto sulla sinistra e poi diciamo sempre quelli con anche altri protagonisti dell'ecosistema tech in Italia come possono essere appunto Bending Spoons una delle maggiori aziende diciamo di successo in Italia, Technogym, Age Farm e Ermenia Gildo Zegna stesso e appunto Shill che appunto è uno dei principali investitori di Silicon Valley che abbiamo ospitato appunto da noi qua a Milano. Attraverso tutti questi eventi poi siamo entrati molto più in contatto con Nicole stessa che ha intervistato appunto mio fratello e da lì si è iniziato a formare questa collaborazione e quest'idea tra Fondazione Carla Mercurio e Gomri proprio attraverso le Silicon Valley Fellowship quindi qua ci sono un po' di altri eventi che abbiamo organizzato e quindi cosa è successo? Io e Tommy siamo andati a Genova appunto a trovare Paolo e Simona proprio perché avevamo visto diciamo questo bisogno di riuscire a creare un forte ecosistema tech italiano di gente che effettivamente vuole fare start up, vuole fare imprenditoria e trovare una sorta di ecosistema per darci una mano vicenda come magari è riuscita a fare molto bene la Francia anche attraverso Macron e effettivamente è diventato il polo in Europa per start up soprattutto appunto per AI e quindi niente poi dopo sono venuti a trovarci Massimiliano ed Alessandra stessa in ufficio appunto da noi a Milano e alla fine abbiamo deciso che uno dei modi di maggiore impatto che si poteva avere per aiutare i giovani e cambiare l'ecosistema tech e stem italiano era proprio attraverso delle borse di studio, delle scholarship per dei giovani intraprendenti che appunto dopo parleranno anche qui, sono venuti Angelica, Elia e Daniel poi dopo quest'estate siamo tornati appunto a San Francisco qua torniamo diciamo un po' al problema dell'accommodation e a questo diciamo questo giro abbiamo preso una casa un po' più grande apposta in modo da poter ospitare altre persone, altri giovani che volessero venire in Silicon Valley a passare un periodo o per esplorazione o per fare fundraising o per andare un po' a Stanford, a Berkeley e così via quindi abbiamo ospitato diversi ragazzi delle Silicon Valley Fellowship stesse diversi ricercatori, founder e tra cui appunto per esempio Nikla stesso era appena arrivato e niente e così appunto continuiamo a fare e qua abbiamo fatto un po' di altri eventi la cosa davvero bella della Silicon Valley è quella di poter incontrare davvero degli eroi o figure quasi mitologiche che magari uno legge dalle varie newsletter, dai vari blog e incontrarle proprio di persona quindi può essere appunto Naval Ravacant oppure anche addirittura premi Nobel come quelli della fondazione di Isnaf poi sono venuto appunto a trovarci anche varie istituzioni italiane quindi può essere il presidente dell'Emilia Romagna, appunto Bonaccini appunto con l'Italian Innovation Hub questo hub che è stato aperto giusto da un anno in cui loro accolgono piccole e medie imprese e start up sempre per un programma di accelerazione per diciamo aiutarle con il go to marketing US e con il fundraising e quindi diciamo che dopo tutta questa storia quello che adesso stiamo facendo con Gomri è praticamente una infrastruttura tecnologica in modo da poter creare un'ampia rete di connessioni personali e commerciali con tantissime organizzazioni quindi gestiamo la parte del ticketing come avrete visto per l'evento di oggi stesso e anche la parte di sponsorship quindi praticamente aiutiamo associazioni community ed aziende con le loro attività praticamente dandogli effettivamente del supporto economico attraverso i vari sponsor e parleranno anche dopo i vari giovani quindi diciamo tutto questo evento e tutte queste cose che sono solo l'inizio di un qualcosa di molto più grande è diciamo da preambolo per la creazione effettivamente di un ecosistema tech italiano molto forte e ben collegato anche agli altri principali poli di innovazione nel mondo tra cui appunto la Silicon Valley stessa ma anche qua tra di noi tra oggi ci sono persone da Londra Zurigo, Dublino, New York e così via e chiaramente il primo punto fondamentale è diciamo quello dell'eccellenza e ovviamente solo questo non basta per poter fare grandi cose e quindi sono fondamentali le collaborazioni con tantissime altre realtà nel mondo tech e nel mondo STEM e quindi diciamo in questo modo come si è riuscito a creare con la Teal Fellowship o con Z Fellows o anche con la Francia stessa una cosa che potrebbe essere davvero di impatto e davvero utile per l'ecosistema italiano è facilitare questo tipo di collaborazioni quindi se c'è un founder italiano che deve entrare appunto a Y Combinator poi come succede per esempio in Francia ci sono tutti gli altri che fanno referral se c'è un ecosistema molto forte di altre aziende che chiaramente possono investire risorse in Italia stessi quindi magari ci sono anche qua tra di noi ci sono persone da Tesla DeepMind, Meta e così via con il passare del tempo si spera che magari possano riuscire a convincere chiaramente i quadri dirigenti a poter avere delle sedi anche a Roma, a Milano, a Torino e così via però per fare questo servono chiaramente diversi casi di successo e una volta appunto fatto questo come è davvero molto molto tipico soprattutto in Silicon Valley nella tradizione americana è quello del give back quindi uno ha ricevuto tanto dal proprio ecosistema che può essere appunto la propria community la propria formazione i propri mentor e così via e quindi allo stesso modo in Italia cioè è molto importante poterci diciamo dare una mano a vicenda e quindi dare spazio effettivamente ai giovani per poter realizzare diciamo i loro obiettivi vorrei dare appunto adesso spazio a Nicole che appunto ci parlerà del Nation Fund Allora grazie mille Eric per le esperienze che hai condiviso e per come ci hai raccontato parlo in nome dell'intero team di Gombrie e della fondazione Carla Mercurio quando dico che quello che hai detto essenzialmente è un concetto che sta davvero a cuore a tutti noi e allo stesso modo di come è stato creato Zeta Fellows e la TIL Fellowship in US e hanno davvero creato una rivoluzione all'interno degli Stati Uniti e allo stesso modo di come la Francia in così pochi anni è diventato letteralmente un vero hub per l'innovazione in Europa tutto quello che stiamo facendo noi e la fondazione Carla Mercurio è perché creiamo davvero che all'interno di questa sala sono presenti le persone che porteranno avanti il futuro della nostra nazione è per questo che è nato il Next Generation Fund e la collaborazione con la fondazione ed è ciò per cui la fondazione Carla Mercurio è nata e si impegna ogni giorno il Next Generation Fund permette di sostenere alcune delle persone eccezionali del nostro network offrendo loro supporto economico da parziale a totale per accedere opportunità uniche per la loro formazione personale e professionale come ad esempio appunto alla Silicon Valley Fellowship saremo eternamente grati alla collaborazione con la fondazione Carla Mercurio e l'opportunità che ha dato ad Angelica Elia e Daniel di partecipare attraverso il loro supporto alla Silicon Valley Fellowship questi tre ragazzi hanno infatti ricevuto grazie alla fondazione un aiuto economico che gli ha permesso di coprire totalmente i costi della fellowship Angelica che purtroppo per motivi di salute non è qua con noi è visiting research alla Stanford sta lavorando sulla tesi incentrata nel migliorare la simulazione dell'apparato vascolare attraverso un tipo particolare di reti neurali con l'obiettivo di fondare una sua start-up alla fine del master incentrata sul miglioramento del mondo della sanità attraverso l'intelligenza artificiale Elia presidente dell'associazione di automazione robotica del Politecnico di Milano ha l'obiettivo di creare una start-up robotica ed è qua con noi oggi racconterà quindi lui di seguito tutta la tutta la sua visione quello che ha visto in Silicon Valley e soprattutto l'associazione che dirige credo così tanto nel valore del network non solo grazie ai grandi esempi che ho fatto io ma che ha fatto anche Eric prima della TIL Fellowship della Francia di Zeta Fellows ma soprattutto perché io stessa ho vissuto sulla mia pelle l'importanza di essere circondata dalle persone giuste allo stesso modo di come alla fine hanno fatto Eric Patrick e Tommy che senza il Silicon Valley Stati Tour del 2019 e del 2022 Gomri non sarebbe qua oggi ed è lo stesso network che ha permesso a me uno studente della triennale in ingegneria che non sapeva neanche se sarebbe riuscito a superare il primo esame di poter arrivare qua oggi con tutto quello che abbiamo creato con una missione a master a Cambridge a Oxford una borsa di studio all'ETH e un progetto di ricerca a Stanford il network che stiamo creando attraverso le Silicon Valley Fellowship consiste di persone eccezionali ricercatori delle università migliori al mondo founder di multinazionali e imprenditori che ogni giorno si impegnano per apportare il maggior valore possibile al sogno che stanno creando grazie all'eccezionalità alla determinazione e agli obiettivi di tutte queste persone noi Gomri Team e Fondazione Carla Mercurio siamo convinti che questo sia il giusto mezzo per raggiungere l'obiettivo che ci siamo fissati diamo ora spazio proprio ad alcune persone di questo network di raccontarsi e io vi seguirò per l'intera durata di questa serata per cercare di presentare e di gestire i cambi delle persone tutte estremamente interessanti che racconteranno quello che stanno facendo scusate per la lettura ma avevo davvero bisogno di portare qua oggi un punto e spero che così sia passato ma sono un pochino emozionata di vedere tutte le persone qui quindi come si direbbe in US without further ado introduco sul palco Fabrizio Capobianco che è un vero e proprio veterano della Silicon Valley 20 anni in Silicon Valley grazie dicevo 20 anni in Silicon Valley Chief Innovation Officer a Minerva Networks e che oggi porterà la sua esperienza qua con noi sul palco buonasera a tutti spero che mi sentiate mi scuso se non sono non mi sono messo la giacca e la cravatta ma ho letto tech e sono venuto direttamente così 5 minuti per raccontarvi cosa ho fatto 20 anni in Silicon Valley e come ci sono arrivato io sono partito dalla Valtellina e quindi parto dalle montagne ho fatto ingegneria al dottorato di ricerca e nel 94 ho incontrato internet lo so che per voi è come l'aria ma c'è stato un periodo in cui non c'era internet e mi sono convinto che avrebbe spaccato ho detto questa roba qui spacca ce l'avranno tutti tutti non avere un sito web e ho creato la prima azienda di web in Italia quindi andavo in giro per l'Italia a raccontare alle grandi aziende che dovevano avere un sito web e mi prendevano per scemo perché avevo 23 anni e in Italia si fa fatica a convincere la gente ho fatto questa azienda che si chiamava Internet Graffiti poi ne ho fatto un'altra che si chiamava Stigma che era pensata per portare Internet in azienda e poi nel 99 ho deciso di andare a giocarmela in Silicon Valley come alcuni di voi stanno pensando e quindi di fare il salto perché volevo ho fatto due aziende in Italia che erano andate bene e volevo giocarmela in Champions League non ero contento di dove ero sono partito io ero già stato in Silicon Valley nel 95 come invited scientist al laboratorio HP a Hewlett Packard e sono tornato in Silicon Valley con l'idea di fare una startup la terza e poi mi hanno detto che avevo bisogno della carta verde o quantomeno di un visto e non ce l'avevo e quindi per caso ho lavorato per tre anni a un'azienda in cui ho creato un prodotto di trading online per comprare le azioni su internet era l'inizio abbiamo messo in piedi Fineco in Italia con il nostro software dalla Silicon Valley e poi finalmente ho avuto la carta verde e ho detto ok adesso parto e comincio la mia startup una delle cose che ho imparato però in quei tre anni è che gli ingegneri che avevo in Italia erano più bravi di quelli che avevo trovato in Silicon Valley e questa cosa mi è rimasta dentro dicendo ok se devo farne un'altra azienda non la faccio con gli ingegneri qua perché qua di talento ce n'è poco la faccio con gli ingegneri in Italia sono ovviamente un ingegnere italiano quindi sono un po' di parte però i capitali li trovo in Silicon Valley è il posto giusto dove far crescere le aziende che arrivano in cima al mondo e dove ci sono le exit cioè ci sono quelli che ti possono comprare che è uno dei piccoli problemi che abbiamo in Italia in questo momento e quindi ho deciso di fare questa azienda si chiamava Funambol anzi si chiama Funambol perché esiste ancora e abbiamo messo il quartier generale in Silicon Valley e gli ingegneri a Pavia quindi ho raccolto gente con cui avevo già fatto le prime due aziende e abbiamo cominciato a raccogliere capitali in Silicon Valley io sono l'esempio del sogno americano venuto dalla Valtellina con lo zainetto mi hanno dato 5 milioni di dollari per fare la mia azienda senza conoscere la mia storia o chi fossero i miei parenti e è un'azienda che è cresciuta tantissimo abbiamo raccolto decine di milioni di dollari le abbiamo tenuto sempre ingegneri in Italia con però il quartier generale americano dopo nel 2010 abbiamo preso un amministratore delegato che è ancora l'amministratore delegato attuale e io mi sono messo a fare qualcos'altro perché dopo un po' mi stufo e ho deciso di fare un'altra azienda però l'ho fatta un po' diversa nel senso che con Funambol avevamo quando abbiamo fatto il serie B che credo che era 2015 2018 mi ha raccolto 20 milioni credo dovevo assumere 30 persone rapidamente a Pavia che è un paesino sotto Milano e 30 persone a Pavia di livello che volevo io non le ho trovate e ho fatto fatica a trovarle e quindi mi sono detto ok uno dei problemi che abbiamo in Italia è che i ragazzi non hanno voglia di muoversi da dove abitano perché da Milano andare a Pavia non ci viene nessuno e qui hanno detto la prossima la faccio diversa la faccio 100% liquida qui nel 2012 abbiamo fatto un'azienda senza un ufficio io in Silicon Valley e gli ingegneri italiani perché comunque anche quella dopo l'ho rifatta con gli ingegneri italiani perché sono convinto della stessa idea li ho tenuti dove erano in Italia quindi avevo due persone in Sicilia avevo uno in Sardegna un po' di gente a Roma un po' di gente nel nord Italia e abbiamo creato un'azienda che era personale perché mi serviva per parlare con gli amici mentre si guarda la partita io ho fatto 25 anni in Silicon Valley quando ero in Italia mi vedevo la partita con papà e gli amici quando sono finito in Silicon Valley me la vedevo da solo è una palla micidiale e quindi mi sono creato il software e che è poi diventato la piattaforma che ha usato la Juventus e poi altre squadre minori come il Real Madrid e il Barcellona quindi abbiamo avuto potete immaginare quale fosse il mio sono ancora presidente dello Juventus Club Silicon Valley e se qualcuno vuole partecipare prendiamo soci anche in Italia quindi cosa è successo ho fatto partire questa azienda 100% remota un po' prima del covid che ha funzionato benissimo che è il modello migliore del mondo perché io ogni tre mesi venivo in Italia e ci incontrovavamo sempre tutti quanti facevamo una settimana di retrite poi lavoravamo da remoto tutti quanti è il modo migliore perché è altissima produttività tutti contenti ci si vede solo quando per le feste e ci si lavora quando si vuole questa azienda l'ho venduta quattro anni fa a Minerva Networks di cui sono adesso Chief Innovation Officer e mia figlia ha deciso di andare a fare il college in Scozia a San Andrews dopo 18 anni in Silicon Valley perché così voi volete andare in Silicon Valley ma gli americani vogliono venire in Europa e quindi abbiamo deciso di tornare quindi sono tornato dall'anno scorso in Italia in Valtellina e siccome come diceva qualcuno gli americani sono abituati al give back e dicono questa cosa i primi 25 anni learn impara dai 25 ai 50 earn cioè fai i soldi perché sono pratici gli americani dopo give back io ho i 50 li ho passati adesso sto cercando di capire come fare a costruire qualcosa in Italia per cercare di creare aziende che scalino come quelle americane rimango dell'idea che fare una start up in Italia oggi che scali sia ancora molto difficile soprattutto venderla quindi c'è il problema del venture capital italiano è che si riescono a trovare i soldi per cominciare e poi si creano un sacco di piccole e medie imprese italiane che non escono mai per cui il venture capital italiano che dovrebbe recuperare soldi dopo 5 anni non li vede mai perché queste aziende vanno avanti i 100 anni quindi mi sono messo di impegno e sto creando una start up factory in Valtellina se volete per quelli a cui piace la montagna io dico sempre se mi piace il mare e la spiaggia forse fare l'imprenditore non era la cosa vostra se invece mi piace la montagna scalare andare in alto con le pelli allora sono quelli a cui piacciono gli imprenditori ne ho visti alcuni della Silicon Valley prima sono quasi tutti scalatori o sciatori d'alpinismo e sarà una cosa per cui io sto raccogliendo 5 milioni di euro di cui 3 ho già il commitment di una istituzione locale e sto cercando altri due se qualcuno è interessato ma l'idea è quella di fare di prendere entrepreneur in residence cioè ragazzi 23-25 anni che vogliono andare in Silicon Valley venire in Valtellina gli diamo 200 mila euro stanno lì 6, 12, 18 mesi e poi gli spediamo Y Combinator quindi lo scopo è costruire startup liquide cioè con il modello dual company quindi quartiere generale in Italia e tutti gli ingegneri possibilmente in quartiere generale di Silicon Valley ingegneri in Italia che dal punto di vista finanziario funziona molto bene perché come sapete le valutazioni delle startup americane sono diverse da quelle italiane io investo un milione se entrate in Y Combinator la valutazione dopo il demo day è 20 milioni quindi ho un moltiplicatore 20 se riesco a far funzionare questa cosa quindi l'idea è cominciare con un modello di startup factory e sotto ci sto mettendo un'università una tech MBA che probabilmente a voi non interessa per insegnare come si fa startup in Silicon Valley quindi l'idea sia della startup factory sia dell'università è quella di avere persone della Silicon Valley non gente che parla di fare impresa ma gente che l'ha fatta veramente che si è sporcata le mani che sa come farlo una parte fondamentale sarà la parte umanistica nel senso che siamo convinti che per fare startup non ci vuole solo la parte tecnologica bisogna capire anche come funziona il mondo quindi se siete interessati adesso devo chiudere il fundraising non è la prima volta ma ci vuole sempre un po' di tempo verso spero prima dell'estate ci sarà il primo batch di Entrepreneur in Residence ne prenderemo quattro quindi se volete fare domanda l'idea è proprio di spararvi in Silicon Valley a Y Combinator perché Y Combinator vi dà i soldi avete il bollino di essere come gli altri americani e vi fornisce anche il visto quindi rispetto a arrivarci da dietro visto che come ci sono arrivato io arrivarci nel posto migliore è quello che effettivamente può farvi darvi la spinta più rapida per per arrivare a dove volete arrivare se avete voglia di cambiare il mondo grazie grazie mille Fabrizio per esserti raccontato così per aver ispirato credo tutte le persone in quest'aula e lascio la parola adesso a Vincenzo Di Nicola che racconterà la sua esperienza salve allora meglio che mi siedo mi sentite? allora è un piacere un onore essere qua davanti a questo pubblico poi parlare di tecnologie in Italia cioè per me è un po' mi riempie l'anima adesso spero che funzioni funziona dovrebbe funzionare come funziona? allora ok prendere avanti qual è questo? per davanti Rossegna allora ho soltanto 8-10 minuti e andrò molto molto veloce vi voglio raccontare una piccola storia questa storia inizia all'aprile 2015 dove io insegnavo per passione informatica al mio ex liceo scientifico a Teramo un capologo di provincia in Abruzzo parlavo di cloud computing insegnavo cloud computing a ragazzi di 16 anni cloud computing già oggi non è così ultra comune figuriamoci anni fa e poi nelle scuole superiori però ho fatto capire ai ragazzi l'importanza dell'informatica ed elettricone moderne sempre in questo corso qui vediamo dei ragazzi che poi col tempo sono diventati uno software engineer a Sky un altro un senior product manager a SIX che è la più grande compagnia fintech svizzera un altro un AI engineer un altro è uno startup freelancer ma anche poi c'è anche una professoressa di matematica dell'MT che è venuta a farci visita a insegnare anche che male non fa e poi uno di questi ragazzi dopo 7 anni ha postato su LinkedIn che è diventato data engineer a booking.com cioè è in pratica uno dei più grandi siti importanti di viaggi e di prenotazioni perché dico questo? ne parlerò di nuovo intanto parlo anche del mio percorso il mio percorso inizia 100 anni fa non è che sono così vecchio però io porto il stesso nome del padre di mio padre Vincenzo di Nicola l'epartimile si rinnovava il nome del nonno paterno e lui Vincenzo di Nicola emigrò 100 anni fa esattamente l'agosto del 1923 come minatore in Pennsylvania lasciò la campagna di Teramo il mio paese prendere in Pennsylvania in Carbon County con telecarbone fare un lavoro abbastanza potete immaginare non esaltante lui tornò poi aveva pure la cosetta silicosi in italiano in inglese black lungs polmoni neri però insomma mi raccontava molto di questo posto duro insomma che però se lavori tanto ti da tanto quindi avevo questa spinta da mio nonno ho avuto questa cultura delle generazioni passate e poi invece la cultura dei miei genitori era un po' diversa questa mia madre che voleva insomma il suo lavoro perfetto per me era il posto fisso da uscire cioè qui c'è questo ma io ci scherzo però era così a 15 anni mi fece dare un concorso alla Banca d'Italia che aveva bisogno soltanto di usceri poteva andarci con la licenza media rendetevi conto per mia madre era il non plus ultra posto fisso Banca d'Italia cioè ce ne diamo conto insomma e a me è detto ma sei impazziti cioè mio nonno si è spaccato la schiena ha lavorato duramente non che non si lavori bene in Banca d'Italia però insomma aveva un concetto del lavoro molto diverso la cultura dei miei genitori era molto diversa a quella a cui mi era abituato mio nonno e sono andato ho detto rispetto ai miei genitori però ho deciso di testa mia è stata bene molto importante e infatti dopodiché cosa ho fatto si parla molto di Stanford io ho studiato a Stanford ho un master in computer science a Stanford e posso dire che dal coal mining dal coal mining dalla miniera di carbone siamo andati a fine in data mining a Stanford per poi fare anche crypto mining perché ho fatto una compagnia anche di mining cioè il mining è nella mia vita in sostanza e poi comunque parte del mio percorso lo dico perché è importante è stato pure fare un internship a Yahoo e io dico a tutti quanti i ragazzi in questa sala non studiate soltanto è fondamentale lavorare io non capisco perché in Italia l'estate non si lavori è decisivo perché poi ho imparato tantissimo a parte che poi sono stato il mio stagista a Yahoo in quell'anno quindi ho pure un bel riconoscimento personale però per me è stato bello vedere cosa vuol dire lavorare anche capire cosa voglio fare e cosa non voglio fare c'era un percorso che non mi interessava e anche vedere poi le diamiche aziendali è fondamentale poi sono stato il product manager il leader del team di BVR targeting a Microsoft questo è il mio periodo grange cioè Microsoft in Seattle c'è un motivo il cui grange è noto là con Irvana insomma è stata una bella esperienza e dopodiché Microsoft ha detto hai fatto un bel lavoro Vincenzo adesso vattene pure in Cina a guidare il team cinese perché Team Microsoft aveva una divisione in Cina a Pecchino e lì insomma è molto formativo perché a quel punto dall'Italia dall'America una cultura diversa italiana a quella cinese una cultura ancora totalmente diversa con pro e contro però ho capito anche perché la Cina stava decollando insomma è stato per me anche molto formativo quindi consiglio a tutti quanti di non focalizzarvi solo su Italia o sull'America ma guardate anche i paesi dell'estremo oriente perché sono molto molto importanti e determinanti per il vostro futuro culturale e professionale poi ho detto beh Max mi sono stufato e ho detto è il momento di vedevo una cosa una cosa molto rara cioè sta cosa qui che vedevo che stava decollando sta cosa qui si chiama iPhone e all'epoca c'era ancora in pochi c'era maggior parte di persone avevano Blackberry figuriamoci però questo qui decollava e vedevo che si è stato parte integrante delle nostre vite e quando vedi una cosa importante una rivoluzione tu e se ne parte quindi lasciai Microsoft sembra una cosa strana perché fu il 2009 dopo la crisi dei mutui su Prime la gente sta ancorata al lavoro invece no vedi un'occasione è il momento di rischiare e ho fatto una mia start up mi sono licenziato ho fatto una start up in mobile payments GoPago molto simile a quella che oggi potrebbe essere SatisPay fumo finanziati da JP Morgan Chase la più grande banca americana e poi vendemmo la tecnologia da Amazon dieci anni fa quindi posso dire essere una persona che oltre a comprare Amazon gli ha pure venduto qualcosa che mai non fa vabbè comunque qui dico sempre si dice work hard ma party harder io sono orgogliosamente abruzzese organizzavo un sacco di arrosticinate a Fun Bay sotto la scogliera insomma in piena notte quindi è anche bello divertirsi e guarirsi la vita poi dico questo poi alla fine sono tornato come vi ho detto all'inizio ho iniziato al mio ex dicio scientifico perché è importante ricordarsi le mie origini molti se ne dimenticano fanno i besoldoni e poi dicono che se ne importa da dove vengo e no cioè io almeno sentivo che non avevo mai fatto qualcosa per la mia nazione ho voluto in qualche modo in piccolo ritornare e insegnare informatica a questi ragazzi mi ha ricevuto ci ha ricevuto anche il presidente Mattarella in Quirinale per un progetto di storia digitale che ho fatto con questi ragazzi e ho detto accidenti questi ragazzi di 16 anni sono 20 forti sono bravi davvero ma perché non ci faccio qualcosa altro un'altra bella start up e a questo punto ho fatto questa nuova start up in mondo delle criptovalute bitcoin conio che è stata fatta da me e da ragazzi di 16 anni che la cosa difficile a me non è stato a farli venire dall'Abruzzo a Milano e dire che loro facevano anche la scuola serale hanno fatto comunque un ottimo lavoro con conio abbiamo ottenuto su 3 milioni da poste italiane 3 milioni di altri investitori tra cui Banca Selle e altri 14 di altri investitori tra cui Banca Generali quindi e infine sono adesso in IMS dove sono responsabile dell'innovazione tecnologica e trasformazione digitale perché in piena pandemia la situazione era molto difficile in Italia ve lo ricordate c'era cassa integrazione la gente ha perso il lavoro ha bisogno di soldi i sistemi informativi all'epoca non funzionavano come dovevano mi sembrava dovere civile cercare un po' di fornire le mie competenze c'era un bisogno e mi sono ho cercato di dare il mio meglio e credo abbiamo fatto un bel risultato abbiamo anche introdotto l'intelligenza artificiale per la prima volta nella pubblica amministrazione vado molto veloce perché è importante perché dico queste cose perché questi esempi perché l'informatica e le tecnologie sono sexy questo in Italia forse si fa molto fatica a capirlo è diventato cioè si parla si parla di molte altre cose ma non tanto dell'informatica e vi dico anche perché è sexy è sexy perché abbatte le caste cioè dovevi pensate che mio nonno era minatore cioè i miei genitori erano dipendenti delle poste del comune io invece ho fatto la carriera professionale grazie all'informatica mi ha permesso di emergere socialmente professionalmente e culturalmente ti permette l'informatica è anche sexy perché è accessibile dovunque questo è uno dei ragazzi che hanno fatto i miei corsi e lavora da un bar a un coffee shop a Palo Alto dovunque puoi stare puoi stare in Papuasia a casa tua non devi per forza andare all'estero è sexy perché crea ricchezza culturale io dico sempre che se Aristotele fosse vivo oggi sarebbe un grande informatico nel suo testo di creatore della logica cioè questa in Italia c'è questa diciamo diffidenza la storia tecnologica si pensa che la letteratura e la filosofia siano superiori quando in realtà vi garantisco se Aristotele fosse vivo oggi sarebbe stato un Linus Torvald per esempio uno Steve Wozniak e poi è sexy perché ti permette di essere libero questo è un ragazzo della Calabria che ha detto grazie all'informatica ha girato il mondo ed è diventato libero sia professionalmente che economicamente fondamentale ma davanti e infine ti crea anche ricchezza monetaria stipendi a 6 cifre parliamo qui sono stipendi da Glassdoor a Zurigo cioè dietro l'angolo purtroppo non ci sono in Italia ed è un motivo per cui in Italia i talenti non rimangono è un problema serio questo è molto grave perché non ci sono persone semplici se a Zurigo prendi 3 volte di più vai là vabbè questa è una storia di salari non voglio dilungarmi però insomma in Italia i salari sono funzione del tempo più sei vecchio più aumenti i tuoi salari non dipende dalla tua competenza cioè sono dati veri questi mentre in America in mondo anglosassone i salari sono funzione delle competenze quindi più sei giovane più hai voglia più energia più i tuoi salari si impennano invece col tempo dopo i 45 anni vedi che c'è una curva di decrescita insomma ci sono pro e contro in entrambe le cose però se sei competente in Italia i salari non sono funzione di questo e infine l'informatica è il social elevator la scienza sociale per eccellenza ed è anche un forte spinta per l'economia di un paese che ancora non si comprende bene in Italia guardate le più grandi compagnie del mondo Apple Amazon Google Microsoft sono di tecnologia 20 anni fa non c'erano alcune di queste e ricordate che l'informatica è dovunque l'informatica come diceva Andristen mangia il mondo il software is eating the world ora l'informatica è dovunque in finanza in medicina nell'industria ora voi non dovete essere sviluppatori informatici per forza dovete avere delle basi delle competenze su cui poi innestare il proprio lavoro e su cui portare innovazione nei processi e nelle decisioni questo che cosa bisogna fare come si impara ve lo dico questo è un motto di Confucio che diceva se ascolto dimentico se vedo ricordo se faccio capisco e voi dovete si impara facendo e dovete fare facendo apprendendo da insegnanti che vi ispirino e infatti questi ragazzi ricordate quelli della foto del tempo fa adesso si sono messi in gioco e stanno insegnando a loro volta ad altri studenti delle scuole superiori con l'associazione non profit che abbiamo fatto Cogita qui non è che si sono dimenticati dove vengono dando a loro volta dei paid forward io credo molto in questo perché così è il modo in cui si è educato e così si crea anche valore aggiunto a una comunità non bisogna mai dimenticarsi del paese da cui si viene il paese di te è cresciuto e c'è che in qualche modo di tenere indietro in tutti i modi con gli interessi cercando di far crescere i ragazzi che saranno poi i giovani del futuro gli adulti del futuro bene quindi l'informatica è sexy sì assolutamente assolutamente e infatti il prossimo ragazzo che parlerà grazie mille per il tuo intervento aspetta 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 ti stai rubando grazie possiamo andare avanti con le slide il prossimo ragazzo che parlerà infatti sta facendo un joint degree ad Harvard ed MIT e parlerà infatti delle Italian societies che ci sono in queste due realtà oltre che ragazzo simpaticissimo e infatti sono sicura che riuscirà a catturare l'attenzione del palco molto molto bene innanzitutto è tutto a posto sì ti serve? no non credo no perfetto innanzitutto è stupendo vedere questa sala queste persone questo range di età e questa passione le storie che abbiamo ascoltato fino ad adesso sono state incredibili io sono all'inizio della mia storia io vengo da un paesino in provincia di Napoli San Gennaro Vesuviano e ci tengo anche a metterlo sulla mia porta in dormitorio è molto napoletano come nome lo so e quindi vengo da lì faccio le olimpiadi di filosofia cosa un pochettino diversa da quella che alla fine sto studiando adesso grazie ad un professore illuminato cioè un professore che credeva nei ragazzi vi posso assicurare che non è naturale io sono cresciuto durante la mia vita con professori che mi dicevano ok vai al posto fisso vai a fare l'usciere quello e parlavano di persone che ce l'avevano fatta come come il senior product manager a Microsoft che ha fondato 3.000 start up è allo stesso modo per i miei professori l'usciere allo stesso modo che è assurdo sono d'accordo faccio l'olimpiadi di filosofia poi devo andare in università ci proviamo non ci proviamo grazie all'internet ed è vero computer science is freedom grazie all'internet scopro di opportunità e diverse avvili tra cui Harvard in America decidono di darmi una borsa di studio di scommettere su di me e di mandarmi lì e adesso sono lì sto studiando appunto statistica e matematica mi sono interessato molto di più al mondo STEM e sto continuando e in quanto give back una cosa che stiamo cercando di fare assieme a diverse Italian society è quelle di l'Italian society per intenderci sono dei club dei club studenteschi in cui gli italiani diciamo almeno 70% italiani cercano di riunirsi tra di loro conoscersi e creare comunità noi lo stiamo cercando di fare in università come Harvard come Brown come MIT e Northeastern Boston College e la lista continua perché ci sono degli italiani che hanno preso un grande rischio cioè al di là di possibili famiglie e quant'altro la maggior parte degli italiani è particolarmente ha preso un grande rischio a 18 anni me ne vado all'altra parte del mondo sapendo l'inglese certe volte un pochettino tentennando e vediamo dove va l'abbiamo preso come rischio e stiamo iniziando a unire questi ragazzi filtrati l'obiettivo delle nostre Italian society è quello proprio di mettere tanta gente di talento sono d'accordo gli italiani sono molto forti gli ingegneri italiani sono molto forti e sono molto selezionati quelli che alla fine riescono a fare queste cose e mettere insieme tante persone di talento nella stessa stanza come lo siamo noi quest'oggi e cercare di farle interagire cercare di creare opportunità e le opportunità si devono venire dall'alto quindi un grazie alla fondazione un grazie allo study tour un grazie a Gomri che sta cercando di creare queste cose a LTF Lead the Future un'altra associazione incredibile devono venire ma possiamo crearle anche noi noi ragazzi siamo pronti ad accoglierli se ci sono delle idee se ci sono delle opportunità che si vogliono fare con le nostre università con noi ragazzi con noi ingegneri noi siamo pronti ad accoglierli e a mettercela tutta per cercare di essere all'altezza di queste opportunità siamo pronti e vogliamo davvero farcela io sono all'inizio del mio percorso quindi non ho tutte queste cose da raccontare però spero di avervi lasciato un messaggio e noi ragazzi siamo pronti e continuate così grazie per quello che state facendo prenditi tutti gli applausi grazie mille per il tuo intervento e adesso lasciamo la parola a un ragazzo che non è in America quindi ritorniamo un attimino in Europa però dall'altra parte andiamo anche un pochino nello spazio quindi Davide lascio la parola a te grazie mille buonasera a tutti io sono Davide Scalettari sono studenti di Delft e sono un astronauta della missione analoga di Asclepius 4 una realtà molto particolare di cui mi piacerebbe parlarvi brevemente ciao Erich allora cosa fa Asclepius Asclepius è un'associazione che è interamente composta da studenti e il nostro unico obiettivo è di fornire agli studenti un'opportunità per imparare dei talenti incredibili in un ambiente incredibilmente stimolante quello che facciamo noi sono appunto delle missioni analoghe ovvero sono delle simulazioni di una vera missione spaziale con lo scopo di andare sulla Luna ma eseguita sulla Terra in particolare siamo all'interno di una grotta ma tutto quanto è strutturato in maniera tale che sia il più veritiero possibile mangiamo cibo che sia con il minor peso possibile principalmente liofilizzato aggiungiamo dell'acqua viviamo in isolamento per due settimane e se vogliamo uscire dobbiamo indossare uno scafandro come potete vedere nella prima foto è stato scattato l'anno scorso sono due astronauti tra l'altro lo scafandro pesa 35 kg è molto interessante andarci in giro tenuto conto del fatto che all'interno della grotta ci sono 5 gradi ma al di fuori è agosto ci sono 35 gradi e dopo 6 ore di camminata gli astronauti sono completamente cotti inoltre abbiamo anche un ritardo di 5 minuti possiamo solo parlare con il mission control center che si vede nella terza foto anche loro ovviamente tutti i studenti gestiscono la missione ci parlano si assicurano che stiamo bene abbiamo dei medical officer e dei science officer che seguono gli esperimenti quello che facciamo principalmente noi selezioniamo tra centinaia di candidature 9 studenti che andranno a formare la crew dell'anno e per un anno intero ricevono dei training da esperti del settore abbiamo ex astronauti che ci fanno dei discorsi insegnandoci cosa loro hanno imparato nello spazio ma anche esperti del campo medico gestione dello stress impariamo tantissimo facciamo dei voli a gravità zero per esempio e uno dei training più interessanti si vede nella seconda foto si chiama ice diving praticamente facciamo un extreme environmental training ovvero per una settimana camminiamo in montagna è un'escursione a più o meno o meno 15 gradi lo scopo è di raggiungere un lago ghiacciato fare un buco nel ghiaccio e indossando la tuta da sub fare delle immersioni al di sotto del ghiaccio e lo scopo di tutto ciò appunto è andare a performare una missione di due settimane e diciamo questo discorso in particolare è interessato prima agli studenti che sono appassionati di spazio che vogliono provare a essere selezionati come astronauti ma anche per tutti gli altri ruoli e in secondo luogo per qualsiasi start up o associazione o gruppo studentesco che ha degli esperimenti che vogliono fare eseguire agli astronauti per esempio nella quarta foto è un esperimento di botanica sono dei nostri astronauti che studiano l'effetto di diversi tipi di illuminazioni sulla coltivazione dell'insalata per poi mangiarla e sperare di migliorare nel più possibile la coltivazione e per qualsiasi azienda partner che sia interessata a supportare questa associazione grazie mille per la serata e spero che molti di voi vogliono applicare prendi degli applausi te li merita anche tu assolutamente grazie mille per il tuo intervento e adesso rimaniamo sempre in Europa lascio la parola a Umberto Belluzzo che è CEO di United Italian Society Buonasera a tutti grazie mille grazie alla fondazione Carla Mercurio grazie a Gomni Group grazie alla Silicon Valley Fellowship per avermi invitato sono molto contento di conoscervi tutti e spero di conoscervi meglio in questa serata vi prendo questi cinque minuti per presentarvi un progetto su cui io e tanti altri ragazzi e ragazze abbiamo lavorato per ormai due anni che si chiama United Italian Societies che è una organizzazione no profit gestita da studenti italiani all'estero che connette le Italian Societies in giro per il mondo le Italian Societies Giovanni ha già spiegato cosa sono però essenzialmente il nostro obiettivo principale è promuovere supportare e rappresentare i studenti italiani all'estero e soprattutto creare quella circolazione di talenti menzionata dal presidente Mattarella quest'anno è molto importante credo che siano perfettamente allineati con l'ecosistema presentato da Eric poco fa vogliamo promuovere questa rivoluzione in Italia e siamo sicuri che ce la faremo anche con il supporto di altre organizzazioni simili United Italian Societies secondo me porta due innovazioni principali la prima è la governance la governance è molto è solida e si basa soprattutto sul garantire un'efficienza un'efficacia su quello che facciamo ma soprattutto un continuo scambio di idee fra studenti italiani che partecipano nella nostra organizzazione perché crediamo certo un cervello può fare la differenza ma un gruppo di cervelli che si mettono insieme e discutono di come migliorare e dando feedback su quello che facciamo è importantissimo per una nostra crescita esponenziale e il secondo tipo di innovazione che portiamo è che noi andiamo oltre il semplice associazionismo in cui connettiamo persone e ci parliamo l'un l'altro e magari facciamo qualche evento insieme noi vogliamo creare un sistema in cui creiamo servizi programmi ed iniziative che supportino gli studenti italiani dentro il nostro network e quindi andiamo a supportare da un punto di vista generale ad esempio abbiamo una piattaforma che cerca appartamenti gratuiti in modo gratuito scusate in città che sono magari molto difficili da trovare appartamenti andiamo ad aiutare da un punto di vista burocratico collaborando con i consolati e ambasciate andiamo ad aiutare da un punto di vista della carriera con il mentoring con aziende che magari vogliono offrire opportunità di lavoro ai nostri membri o andiamo nelle nicchie magari aiutiamo su studenti che sono interessati al mondo dell'arte della moda aiutiamo studenti che sono interessati alla ricerca accademica insomma questa è la nostra innovazione questo è quello che rappresentiamo io adesso sono qua ma dietro di me ci sono oltre 40 persone 40 studenti che mi aiutano ogni giorno e dedicano le loro risorse i loro talenti a questa organizzazione e ad oggi raggiungiamo più di 4.000 studenti e siamo super contenti di come stiamo andando quindi vi ringrazio veramente tanto per l'invito ancora e spero di incontrarvi meglio di parlare di possibili sinergie su cui possiamo collaborare in futuro grazie mille grazie a te Umberto e adesso passo la parola a due ragazzi di cui uno Elia Ramondi è uno dei vincitori dell'aiuto economico della fondazione Carla Mercurio che ha fatto appunto la Silicon Valley Fellowship adesso qualche a novembre a novembre che ha fatto la Silicon Valley Fellowship a novembre e che parleranno di Apple e Me ragazzi vi lascio direttamente il palco salve a tutti io sono appunto Elia Ramondi presidente di A&A Polimi e lui è Riccardo vicepresidente e A&A è una realtà che si pone come obiettivo quello di portare all'interno del Politecnico di Milano il mondo della robotica perché appunto all'interno del Politecnico facciamo un po' fatica a mettere in pratica ciò che studiamo a lezione e quindi abbiamo deciso di collaborare in questa associazione dove riusciamo a portare progetti e eventi per aiutare gli studenti appunto ad entrare nel mondo della robotica il nostro core business diciamo al momento è appunto quello di sviluppare progetti i principali sono un drone guida autonoma che come obiettivo al momento ha quello di sollevare pacchi e portarli da un punto A a un punto B in modo autonomo e poi abbiamo appunto una protesi che viene controllata tramite un caschetto tramite un EEG e anche tramite dei sensori che vanno a rilevare gli impulsi nervosi nel braccio per poi andare a controllare appunto questa protesi questi diciamo sono i due progetti principali e entrambi hanno come obiettivo l'obiettivo comune della robotica ossia quello di migliorare la condizione umana aiutare magari chi ha perso un arto o qualcuno con delle problematiche ad affrontare la vita di tutti i giorni oppure anche tramite i droni come sta succedendo con Amazon al momento riuscire a portare magari i pacchi tramite i droni adesso passo la parola a Riccardo che vi parlerà un attimo di come strutturiamo gli eventi e anche come siamo a contatto con le aziende che sono in questo settore spendo le ultime due parole per concludere questa breve overview sulle nostre attività e su quello che stiamo cercando di costruire con questa associazione come stava appunto dicendo Elia non ci fermiamo solo al lato tecnico che è importante ma non è il solo lato importante come è già stato detto questa sera quindi sempre con come diceva lo scopo di offrire opportunità ai studenti interessati a questo ambito che è la nostra passione comune la robotica e l'automazione non offriamo solo la possibilità di sviluppare competenze tecniche ma cerchiamo di andare oltre e fornire qualcosa che sia un arricchimento un completamento del percorso universitario e che quindi permetta di sviluppare una personalità all'interno di questo ambito a tutto tondo e facciamo questo con attività ed eventi che sono hanno lo scopo di mettere in contatto gli studenti con aziende del settore fornire formazione di qualità sempre con il supporto di aziende del settore per esempio da poco abbiamo concluso una formazione di alto livello di robotica in collaborazione con una delle principali aziende del settore che ha coinvolto alcuni nostri associati e abbiamo in programma molte altre oltre a questo organizziamo eventi in cui permettiamo agli studenti di incontrare sia di start up del settore o professionisti di aziende più affermate oltre ad eventi e occasioni di formazione di formazione su questo mondo sia tecniche che più trasversali e questo è in breve quello che facciamo e il nostro obiettivo se posso dire un attimo un'ultima parola consiglio a tutti i ragazzi che stanno studiando all'università o che dovranno affrontare l'università comunque di spingersi oltre al semplice studio e di cercare ad entrare in associazioni o in società del genere che possano aiutarvi ad andare oltre alla teoria o quel che si studia all'università normalmente in Italia perché è anche un'ottima occasione per conoscere gente nuova e per effettivamente mettere in pratica ciò che studiamo all'università grazie a tutti quanti grazie grazie mille ragazzi per tutti siamo quasi alla fine adesso invito sul palco Alexandra che ci racconterà delle due realtà che sta vedendo da molto molto vicino buonasera a tutti sono Alexandra sono studentessa del Politecnico di Milano studio di Ingegneria Informatica e come potete vedere sono la presidentessa di Entrepreneurship Club Polimi e la vicepresidentessa di Mesa in Entrepreneurship Club Polimi ci poniamo come obiettivo quello di diventare il punto di riferimento per la comunità imprenditoriale studentesca di Milano soprattutto e anche sul territorio di Torino organizziamo dei corsi in collaborazione col Politecnico sono corsi che teniamo noi ma che vengono ufficialmente riconosciuti e forniscono crediti per la laurea e oltre a questo organizziamo anche workshop e eventi di networking tramite la nostra realtà ci poniamo l'obiettivo appunto di diventare un incubatore da studenti per gli studenti in Mesa invece è una realtà che si amplia a livello europeo infatti noi siamo il branch locale di Istek una realtà più grande e è il punto di riferimento della comunità ingegneristica del Politecnico attraverso entrambe le associazioni ci occupiamo appunto di sviluppare hard skills soft skills e network tramite appunto workshop e eventi e niente grazie mille allora grazie ancora Alessandra e grazie a tutte le persone che sono state su questo palco oggi e vorrei invitare di nuovo sul palco Elia e invitare sul palco anche Daniel per raccontare dell'esperienza che hanno avuto durante la Silicon Valley Fellowship anche qua ragazzi vi lascio direttamente il palco grazie la fellowship è stata molto più è stata molto più ha soddisfatto molto più delle aspettative che avevo prima di andare lì perché magari ci sono tante cose che noi già studiamo e che leggiamo che sono alla fine le cose che ci che ci permettono di essere selezionati come vincitori della borsa di studio ad esempio della fondazione una volta lì poi ci si rende conto che effettivamente quel che si studia quel che si legge non è soltanto una fiction che sta sui libri su internet sui vari social ma è una realtà che esiste davvero sta davvero succedendo nel mondo ed è davvero complicato da realizzare finché non sia effettivamente lì finché non si non si parla con gli investitori e non si capisce che ci sono davvero persone che out of nothing vanno lì e alzano del capitale senza nessun network soltanto con delle skills e delle idee dell'entusiasmo e quindi davvero non si può è difficile è difficile capire effettivamente quanto 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 ti cambia quanto ti fa quanto ti apre la mente gli occhi soltanto pensandoci prima di prima di viverla quindi sì un consiglio che chiaramente penso può aiutare gente che vuole che vorrebbe partecipare alla fellowship magari attraverso la borsa di studio un consiglio che mi sento di dare a chi vorrebbe partecipare alla fellowship grazie alla borsa di studio è quella di iniziare già a entrare nella mentalità del posto leggendo le news del posto interagendo online con le persone del posto ed essere effettivamente preparati al a raccogliere più che si può dal viaggio perché veramente il potenziale che si può raccogliere dal viaggio è enorme se non si è preparati magari non si non si coglie tutto quello che si può cogliere mentre invece se uno già sa quanto potenziale c'è può massimizzare quello che raccoglie quindi grazie mille a Gomri per aver organizzato la cosa e alla fondazione Carla Mercurio per averci offerto questa opportunità io ovviamente condivido tutto ciò che ha detto Daniel è un'occasione stupenda partecipare a questo evento perché apre veramente tantissimo la mente secondo me ciò che dà di più questo viaggio perché si capisce effettivamente cosa gli imprenditori in Silicon Valley o chi è andato in Silicon Valley ha più degli altri si capisce molto la voglia che c'è di aiutarsi in Silicon Valley che spesso in Italia manca ed è un piacere infatti essere riuniti qui perché è un primo passo verso questa collaborazione io suggerisco appunto a tutti di partecipare a questo evento per ampliare le proprie conoscenze per ampliare il proprio network per capire meglio come funziona il mondo all'esterno dell'Italia e appunto anche io voglio ringraziare la fondazione Carla Mercurio perché senza la borsa di studio molto probabilmente non sarei riuscito a partecipare a questo evento e consiglio a tutti quanti voi di fare application per questa borsa di studio e di parteciparvi perché è un'esperienza che al di là delle parole può veramente cambiare la vita e soprattutto se avete intenzione di lanciare una start-up o anche se avete una singola scintilla che vi possa lanciare verso questo mondo prendete la palla al balzo e partecipate a questa esperienza grazie mille ragazzi e adesso per l'intervento finale chiamo sul palco il presidente della fondazione il dottore Alberto Silvestri allora la prima cosa è guardare la sala io ho preso degli appunti Elia con un suo italiano veramente molto preciso ha ribadito più volte la parola davvero 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 io lo uso spesso per dare un rafforzativo a quello che sta succedendo ecco davvero sta succedendo che siamo qui io questa sera sono arrivato alle sei e un quarto diciotto e quindici mi chiamavano per dire ma dove sei non l'ho detto a nessuno dove ero era un barretto qui davanti e volevo vedere le persone che arrivavano sapete tutti i vostri colleghi hanno detto una cosa importante siamo in Italia e in Italia il 29 dicembre non si viene in questo posto si sta magari in montagna si sta in famiglia si sta a giocare a tombola quindi il primo ringraziamento va a voi che avete accettato di dedicare il vostro tempo noi siamo il nostro tempo e dal tempo volevo prendere degli spunti che hanno dato i vostri colleghi Fabrizio ha parlato di ingegneri italiani ha parlato di tecnici che non si spostano ha parlato della parte umanistica Vincenzo esperienza globale libertà e merito Umberto come fanno a lavorare qui tessuto economico purtroppo a volte non meritocratico e politicizzato la fondazione la fondazione cerca di lavorare proprio su questi elementi fondamentali la bellezza che cos'è la storia è tradizione e bellezza noi vogliamo lavorare sulla bellezza io ho 60 anni sono stato a 24 anni ho lavorato in una multinazionale americana e sono diventato amministratore delegato dell'area mediterraneo a 27 a 29 mi sono dimesso con mio padre che diceva che cavolo fai mio padre era un funzionario pubblico e mia madre una persona che era a fianco a lui ora ho un'azienda che ha delle sedie estere ho altre tre società che si occupano collateralmente del lavoro che svolgo il lavoro di ingegneria ma soprattutto ho capito una cosa e mi è piaciuto tanto il passaggio dei 25 anni che sto dieci anni di ritardo a fare quello che sto facendo oggi di pensare ai giovani ora mi occupo di finanza ho venduto due appartamenti e l'ho messo a disposizione della formazione per voi per darvi tradizione e bellezza grazie buona serata Alberto dove vai adesso dobbiamo fare una bellissima foto con tutti e volevo una foto tu volevi fare una foto al palco ok vabbè assolutamente sì grazie 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 per il discorso che hai fatto ma appunto adesso vorrei chiamare sul palco tutte le persone in questa prima fila tutte le persone della fondazione tutte le persone che hanno reso alla fine tutto questo possibile e Massimiliano dove sei Massimiliano che alla fine è la mente dietro a tutto quello che è successo oggi perché come ho già detto prima magari tremando magari con l'iPad in mano cercando di non dimenticarmi le cose che volevo dire tutto quello che sta succedendo oggi tutto quello che abbiamo già creato insieme è davvero davvero grande e sono sicura che questo alla fine è solo l'inizio è davvero solo l'inizio e se già all'inizio è così vorrei davvero sapere cosa ci porta il futuro ma il futuro non siamo noi noi cinque noi sei noi del Gombrie team ma siamo tutte le persone in quest'aula e tutte le persone che in quest'aula influenzeranno altre persone al di fuori di quest'aula in italiano in inglese qua in Italia all'estero ad Harvard a Stanford eccetera noi alla fine siamo questo ed è per questo alla fine che abbiamo creato questo evento e vi ringrazio davvero davvero per la vostra partecipazione per essere stati qua per aver ascoltato tutte le persone che hanno parlato fino ad ora aspettiamo il prossimo assolutamente adesso vorrei chiamare sul palco insieme alla fondazione che farò risalire sul palco anche tutto il Gombrie team perché anche grazie a loro tutto questo è stato possibile quindi Tommaso Patrick Eric Ligeia Bruna Sì 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 venite anche voi Alberto e con questo direi che la prima parte della serata si chiude la parte dove solo alcune delle persone qui presenti hanno parlato della loro esperienza perché altrimenti saremmo dovuti rimanere qua per fino a domattina probabilmente anche più in là e inizia la seconda parte della serata che è ugualmente importante e non parlo del cibo parlo delle connessioni dei rapporti che si stringeranno adesso sì ok insieme al catering ma in questa bellissima sala insieme a delle persone che sono davvero tutte fortissime quindi ragazzi divertitevi e grazie ancora per essere qui grazie 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 a tutti